no siamo addolorati di questa cosa che non è certo un punto d'arrivo cantare con prestigio voglio dire è una fase transitoria vedrai che andrà meglio spero spero no io volevo dire che sono molto contento di essere qui a radio su base o oggi ecco bene bene un attimo Giorgio scusa Giorgio il tuo cantante gli hai spiegato che non siamo queste radio DJ ma non è io l'ho detto ma un po' così non è un po' decoccio via Messina via no no è via Messina 2 tu fare altri dischi proprio non li vuoi fare bene bene ce lo meritiamo però eh beh perché il resto sapendo che lavora con Prezioso cosa ci aspettavamo? Da uno che sembra uscito dalla comunità di Muccioli niente ho una cosa da spiegare perché avrei prenotato una stanza all'hotel Charlie a Paolo ma chi se ne frega ah con l'accento però ci sono spostate oggi giusto? Le centraliniste? Ah ho capito fanno il tour oggi sì c'è il weekend allora loro va bene ok senti adesso a parte gli scherzi dai cioè tu hai fatto insieme a Giorgio e insieme a Andrea un disco molto bello che sta avendo un grande successo noi quindi abbiamo preparato una breve scheda se se non ti dispiace Marvin va bene il cantante Marlin nasce a Casal Pusserlengo il 31 febbraio 2001 sei all'accento romano ah sì? Ah non si sente? Dopo anni passati al riformatorio di Rebibbia dove ha imparato la tecnica del frutto con destrezza il cantante Marlin ha conosciuto durante una retata della buon costume alla stazione Termini di Roma il DJ prezioso che era truccato da trans l'inacqua l'inacqua e l'amore e la sima che li lega ormai da più di tre giorni tra i più grandi successi del cantante Marlin ricordiamo l'ultimo dal titolo ma soprattutto quello che l'ha lanciato nel mercato intitolato bene questa era la scheda di Marvin a questo a questo punto io per dimostrare che sei veramente volevo volevo intonare il pezzo che abbiamo fatto con Giorgio esatto io tra l'altro se vuoi ti visto che c'è una parte del disco dove c'è un la tua voce molto filtrata ecco la tecnologia qui proprio forza a fingere di divertirsi bravo esatto allora se vuoi te lo presto poi me lo ridai va bene è piaciuto molto anche a Max Gazzè e Alex Britti lo vogliono tutti però la tecnologia c'è la roba che deve rimanere segreta non voglio che nessuno lo sappia cosa uso eh possiamo andare con la base ed ecco tell me why dal vivo per il DJ time battere battere e le signorine lì battere di più eh l'altro se vuoi l'altro se vuoi l'altro se vuoi l'altro se vuoi ready for what I want and then tell me why you want love why my love tell me why you want love why don't you want to tell me why dance by the record fame com'è l'altro se vuoi Grazie a tutti. Grazie a tutti. I don't know, tell me why you want love, why my love, tell me why you want love, why don't Don't tell me why. Fantastico, fantastico. Sei stato accolto come una rock star, Madeline. Che effetto ti fa sentire la tua canzone in giro in discoteca? C'è la gente che... Ieri, per esempio, Giuseppe, hai visto una signorina? Mentre stavo truccando il motorino, da Ricky di Paderno, e questa qua passava a piedi e cantava, tell me why, why... Bellissimo, bellissimo. Però la gente non sa esattamente quali sono le parole giuste da cantare. Allora, diciamole, Marvin, tell me why... Tell me why you want love. You want love. Perché vuoi amore. Sì. Tell me why my love. Perché vuoi il mio amore. Tell me why, cosa vuol dire? Eh, dimmi perché, vuol dire. Senti, complimenti, Marvin. Grazie. Io ti auguro un'estate di grande successo, anche se, insomma, non è già il presente, vuol dire, no? Però è triste. Cosa? Che dopo questo successo tornerà nelle sue fognature. Va bene, io ti ringrazio. Cioè, se c'è qualcosa in particolare che vuoi dire sul prezioso che ha prodotto questo disco, insieme al fratello, naturalmente, si è trovato bene. Sì, vabbè, per me sono come due fratelli loro. Certo. C'è un rapporto di stretta amicizia. Non è un'ottima referenza questa. Cioè, infatti non ti pagheranno mai. Proprio per quello non mi pagheranno. Ti trufferanno. Grazie. Se vuoi aggiungere qualcosa... Sì, volevo dire l'ultima cosa. Sì. Ciao, sono Marvin, anche io ascolto Radio DJ. Ma chi sei? Ma chi sei? Ma chi sei? Ma chi sei? My name is, my name is, my name is, albam, albam. My name is, my name is, my name is, albam. Dall'uscita questo disco, quando, quando un disco diventa un successo, quando la canta chiunque, il pizzaiolo mentre fa la pizza, il muratore sull'impalcatura, tell me why. La battona quando aspetta il clima. È lì che si vede quando un disco è diventato un successo consolidato, prezioso. Che però, diciamo, questo progetto non l'ha fatto da solo, perché con lui c'è il cantante Marvin e c'è anche un membro della sua famiglia. C'è un membro, diciamo. C'è sempre un membro. C'è un membro. C'è, infatti, con lui il fratello Andrea Prezioso, che oggi è qui con noi a Radio DJ. Allora, breve scheda, breve scheda. Ciao Andrea. Ciao Alberto. Come stai? Bene, tu? Senti che la voce è anche un po' timile. È incredibile. Ciao Andrea. Ciao Andrea, come stai? Tutto a posto. Tutto a posto. E parlano anche abbastanza... Insomma, sono fratelli del resto. Allora, breve scheda su Andrea Prezioso. Via. Andrea Prezioso e Giorgio Prezioso nascono su una chiatta sul Tevere. Infatti la panzona si trova lì per caso a fare un bagno. Ma chi? La chiatta. Dopo anni come truffatori all'oratorio, finalmente i DJ Prezioso esordiscono nel famoso concorso inglese di MC, GBC, AKG, MSI, dove si posizionano con successo all'ultimo posto. Non ultimi grandi loro successi dal titolo, ma anche l'LP che si chiama e come quest'ultimo che possiamo riascoltare, che si intitola... Eh, ma i titoli non li hai detti? Eh? Non ci sono i titoli? Lui si è seguito le orme e poi... Ti ha copiato, in pratica. Mi ha copiato, sì, sì. Ha fatto tutto quello che hai fatto tu, l'ha fatto lui. Uguale. Praticamente è lui. Il vero prezioso è lui. Noi abbiamo il... Un ciarlatano. Il falso, il ciarlatano della famiglia. Eh? Cioè, una vergogna, ragazzi. Cioè, noi abbiamo qui... La coppia, praticamente. Tra l'altro Andrea, che è un bravo ragazzo, si è anche tagliato i capelli. Incredibile. Mentre Giorgio insiste con quella pettinatura tipo Timberland che... Da spacciatore cubano. Eh. Vabbè, comunque... Cosa possiamo fare adesso? Noi... Noi volevamo dirti che... Insomma... A noi non va più bene avere qui con noi Giorgio prezioso. Se potevi... Eh, sono voluto qua apposta. Ecco, se possiamo sostituire Giorgio con te... Ma va benissimo. Puoi cacciarlo a calci, se vuoi, eh? Violento. Si può fare. Si, si può fare, si può fare. Un attimo, perché questa è una decisione che io devo prendere con i miei ascoltatori. Ragazzi, voi siete d'accordo? Si! Si, che c'è? Scusa, Alberto, c'è Giorgio che voleva controbattere. Prego, dimmi, Giorgio. Andrea, dopo fammi i conti. Vabbè, voi fate i conti per i fatti vostri. Noi intanto tentiamo la sostituzione e vi diamo appuntamento con il DJ Time, ma tra poco con il nuovo di Supercar, che si intitola Computer Love. C'è lunedì? Ma è allora? E allora? E' prezioso? Ci riassume quello che è successo? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ciao, Elisa. Ciao, Tattino. Ben Blem. Chi non ti ha lasciato venire? Mia mamma. Passa già! Il fratello Andrea Prezioso oggi è qui con noi a Radio DJ. A noi non va più bene avere qui con noi Giorgio Prezioso. Se potevi... Lei sono voluto qua apposta. Ecco. Andrea, dopo fammi i conti. Pronto, Manuela? Ciao. Ciao. Come stai? Bene, voi? Oi, si, oi, si, oi, si. Attenzione. Se noti che il tuo tappeto di pelle di orso in salotto ogni tanto quando gli cammini sopra tenta di azzannarti, per il tuo bene scrivi una lettera di lamentela segnalando questa strana reazione alla ditta che te l'ha venduta. DJ Time. Nevicherà. Binagler. Il pugile. Pugile. Ma ci si. Abbiamo detto, stai. Tanto ci si. Potevamo avere i Marvin Garden, gruppo del 93. Potevamo avere anche Mr. Marlin, il ristorante di Milano. No. E invece abbiamo con noi Marvin, il cantante di Termi Y. Ciao, Marvin. Ciao. Ma non da solo, perché è un po' come tutti i guai, non viene mai da solo. Certo. Con lui c'è... Chi? E' il fratello del Giorgio Prezioso, Andrea Prezioso. Perché Andrea... Bravo! Perché non è giusto che Giorgio si prenda tutti i meriti di questo disco. Invece, innanzitutto tu sei il fratello maggiore. Quindi aspetto. Sei più ordinato con quei capelli belli a posto. Sei il genio della famiglia. Genio. E questa storia deve finire. E non è neanche giusto che si prenda tutti i soldi. Neanche tutti. Bravo, Marvin. Neanche tutte le malattie. Allora ragazzi, parlatemi un po' di questo grande evento. Numero 8 in Austria. No. In vicenda. Invecchiamo. Allora, innanzitutto parliamo del mercato austriaco discografico. Quanti... Cioè, uno che va al numero 1 in Austria. Quanti dischi vende? Hai visto che sono... Saranno 100.000 persone. Saranno 100.000 abitanti. Non facciamo una lira. Poi se... Ho sputato. Infatti, il dubbio è... Non è che essere al numero 8 in Austria... Sei quasi in debito col... Col governo. C'è problema che pagano in Sager Torte. Ah, neanche sordi. Neanche sordi. E pensi che l'altro giorno eravamo sull'aereo, no? A disturbare le hostess con Marvin. E lui mi diceva quanto ha guadagnato fino adesso da questo disco. Tellmi guai. Quanto ha guadagnato? Niente! Niente! Bello, bello. Però tanta soddisfazione. Certo, in palestra doveva lui è il numero 1. Senti, ma l'esperienza del Festival Bar com'è stata? Eravate tutti e tre, no? Sì, sì. Una band. Sì, sì. Una della band. L'orchestra. È un po' corta, però è andata bene. Sono divertiti. Pensi che il pubblico ancora si ricorda il delirio Tremens di Giorgio Prezioso quando doveva screcciare con quella mano lì? Però adesso non... Un po' d'emozione. Voglio dire, si vive mica solo di denaro, adesso... No, no, infatti... Ma si vive col denaro. Col denaro, ma anche di grandi giocci. Cioè, è bello quando vai dal salumiere, oppure quando c'è il muratore che tu non riesci a dormire perché c'è l'impalcatura proprio davanti alla tua finestra e il muratore canta... Quelle sono soddisfazioni, no? Oppure quando chiedi lo sconto al salumiere. Bravo. Anche lo sconto che io sono il cantante. Esatto. Tu ne approfitti di questa cosa, eh? Sì, sì, come no. Cioè, tu quando vai in un posto dove non sanno chi sei, ciao, sono il cantante del Giorgio. Così è l'approccio, oh? Più o meno, sì. A battere via! Vabbè, ragazzi, noi vi auguriamo di arrivare almeno al numero 7 in Austria, perché ve lo meritate. Anche se ormai è consumata, è vecchia... Per pietà, riproponiamo questo scempio. Grazie, grazie. Molto bella, sì. Terni Y. Sì, grazie. Radio DJ Radio DJ Radio DJ Radio DJ I know why Sono le 3 e 4 minuti. Disco Crack Radio DJ Radio DJ Radio DJ And I knew that you could turn me on every time you came into my mind. I'm trying to realize if I can be what you want to make your love just fine. Don't play with me now. You better come to me. You better come to me. I will walk alone tonight, under the sky Wanna be alone tonight, forever now On my mind, you can't keep me so long Waiting for what I want and then Tell me why you want love, why my love Tell me why you want love, why I don't know damn why I don't need to say that I've been dreaming about you That long, long night And I wait for you to call me now And to tell me that you will be mine And you are so right, that's why I want you in my life And I want you right now Don't play with me now You better come to me, you better come to me I will walk alone tonight, under the sky Wanna be alone tonight, forever now On my mind, you can't keep me so long Waiting for what I want and then Tell me why you want love, why my love Tell me why you want love, why I don't know Tell me why you want love, why my love Tell me why you want love, why I don't know Tell me why Anche se non la conoscete ancora, cantatela Eh, non lo so Non fatemi fare brutte figure con l'artista, per favore Questo è il disco Clock di oggi È il nuovo disco di Giorgetto Prezioso Ti piace? Ma chi canta, tu? No, al computer No, dai Come si chiama il cantante? È vero che si chiama Franco? No No Eh no, va bene Non essere così loquace, eh È sempre un po' più Marvin Marvin si chiama Ha un nome da prestigiatore È uno che ti fa sparire il disco Dalla classifica in 24 ore Questo qua Praticamente sì Ecco, abbiamo con noi ospite Per la prima volta Non di là, in regia Insieme a Fargetta Ma qui, tra di noi Nella nostra stanza In mezzo al pubblico Abbiamo con noi Non ti girare Giorgetto Prezioso E non diciamo mica Molella Ecco Diciamo Prezioso E non diciamo mica Fargetta Allora, Giorgio Sì Come è nata l'idea di questo disco? Bene, grazie Noi volevamo sapere Pensi di venderne molte copie Di questo disco? Ma secondo me Secondo me è zero Comunque 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 no Sai cosa ho notato? Che ti sei Come dire Sei diventato più melodico Hai un cuore Anche tu Sei avuto un momento di Sei innamorato? Sì Dietro quei capelli Che sembrano un mocio Vileda batte un cuore Complimenti per questo disco Guarda Credimi Secondo me Sai che io sono Faccio dei pronostici Secondo me Abbiamo una cosa Non te ne andare Perché qui scatta E lo scratch Lo scratch Mi sa Screcciava le lasagne Cosa faceva? All'età di nove anni A nove anni Quindi molto precoce il bambino Era l'idolo del match more Ah in discoteca A nove anni Incredibile A nove anni Ma lei era preoccupata? No per niente Anzi era contenta Facevo le nottate per lui Non ci credo Non ci crede L'accompagnavo Mi lo mandi Veramente? Lo accompagnavo Lo andavo a riprendere a mezzanotte E a luna Perché ero troppo piccolo Non gli faceva entrare Ma la cosa più bella È che sua mamma Ancora adesso Lo accompagna Lo va a prendere Che ha quasi 30 anni No no Adesso no Adesso va da solo Pensi signora Che il suo figlio Qui presente Aveva una vicina di 90 anni Signora Sa? Ah sì? È morta Covellina Sì sì Perché teneva alto Ma teneva alto anche a casa? In che senso? Il volume Ah sempre Sempre Ma lei è una santa signora Io sono una santa Ma lui non tanto Eh no Lui no È un birichino È un po' birichino Con tutte quelle donnacce in casa poi No questo no Signora No no Sì sì Come no Signora Non credo Comunque ha notato che crescendo È diventato più chiacchierone Ma no Devo dire un po' meno Un po' meno Per me Forse alla radio No qui tra di noi Si è aperto un po' Prima era veramente molto taciturno Ah sì? Sì sì Questo mi fa piacere Volevo chiederle Ma come lo chiamava Giorgio Quando era piccolo? Ci dica qualcosa? Come lo chiamavo? Sì Patatino Pisellino Come lo chiamavo? Svirulino 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 E con questa rivelazione della mamma Le diamo grande abbraccio da parte mia Ah guarda io lo bacio sempre Giorgetto È via che lo vorrei vedere presto Svirulino prezioso Via vai Ma da quant'è che non torni a casa Giorgio? È un po' Un paio di mesi Un paio di mesi Signora un grosso abbraccio anche da parte nostra Vi ringrazio a tutti quanti Un salutone Arrivederci Saluti anche Andrea Senz'altro Arrivederci Arrivederci Svirulino Svirulino Tattino Viene che ti chiede Svirulino 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 Svirulino